Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD a Roma non paga le rate del condominio. Siamo a Torpignattara, quartiere popolare del quadrante est di Roma. Lì c'è, del Partito Democratico, un circolo che non starebbe pagando le rate condominiali da cinque anni. Da cinque anni. Così ha un'amorosità complessiva di circa 10.000 euro. Ma questa amorosità rischia di ricadere sulle spalle di chi abita in quel condominio. Gli abitanti di questo condominio, dopo aver cercato di contattare più volte il Partito Democratico, hanno pensato di rivolgersi a un programma televisivo, nel disperato tentativo di risolvere in qualche modo la situazione. Ecco, andrà poi in onda alle Iene su Mediaset, ormai da diversi anni divenuto in questo paese una delle poche risorse a disposizione dei cittadini. Di solito, rivolgerti alla giustizia, non sai i tempi, non sai come andrà a finire, allora il programma televisivo potrebbe risolvere la cosa, perché il PD, sentendosi messo di fronte alle proprie responsabilità in televisione, magari salda subito il debito. Ecco, a raccontare questa storia in televisione sarà Filippo Roma, la Iena. Dopo aver raccolto l'appello e le testimonianze dei condomini, parla con i dirigenti del partito. alla nuvola, si erano riuniti lì, un po' la dirigenza del partito democratico, e lui si è presentato lì per chiedere spiegazioni, cercando delle risposte per questa morosità in questo circolo di Torpignattara. Intanto è una zona di Roma dove la sinistra ha un elevato consenso. Per esempio, Lashlein nel circolo di Torpignattara ha preso 370 voti su 456 votanti, quindi una bella maggioranza, un bel sostegno popolare. Il problema di questo circolo, racconta una di queste persone che vive lì al programma televisivo, che racconta al programma televisivo, dice che il PD non paga le rate da 5 anni, le rate condominali, ci stanno mettendo nella condizione di dover sostenere noi queste spese. Parliamo di un debito più o meno di 10.000 euro, sono tanti soldi, ecco. Pertanto, dice, se loro non pagano dobbiamo pagarlo noi. Da queste parti a Torpignattara 10.000 euro sono tanti, sono troppi soldi. E poi a generare questo sono proprio le mancanze di un partito, che si dichiara o si è sempre dichiarato vicino alle classi popolari, ma è proprio più che vicino alle classi popolari, è proprio nel condominio, con le classi popolari, ed è lì e non paga come le classi popolari, quello che dovrebbe pagare. Ma il PD non risponde, ai condomini non dà nessuna risposta. Abbiamo, dice Laura, abbiamo fatto anche dei decreti ingiuntivi per recuperare questa morosità, ma non abbiamo avuto risposta, zero. Neanche quando abbiamo provato a contattarli, risultato che oggi gli inquilini rischiano di dover pagare 1.000 o 1.500 euro ciascuno in più, di tasca loro, per pagare i debiti del Partito Democratico. E aggiungono, per noi pagare 1.000 o 1.500 euro, visto che il PD non paga, per noi è un problema, perché è uno stipendio ed è impensabile pagare 1.500 euro per chiudere i buffi di un partito. Come partito di sinistra, dicono, dovrebbero darci l'esempio. Invece siamo qui noi a dare un esempio a loro, dice Maria Grazia. Ci sono famiglie che sono anche messe male in questo condominio per colpa loro, perché questi soldi non li possiamo tirar fuori. Non abbiamo più soldi per pagare. Un altro condomino lancia un appello direttamente alla Schlein. Ciao Ellie, dice abbastanza grave che un partito storicamente attento ai bisogni delle fasce più deboli si trovi in una situazione così scomoda da dover mettere le mani in tasca alle famiglie in un quartiere proletario come quello di Torpignattara. Chiediamo che ci vengano restituiti i soldi. Credo in te, sono certo che sarai capace di risolvere la situazione. Quindi Filippo Roma, della Iena, va a questo congresso del PD per parlare con i dirigenti del partito, rincorrendoli qua e là per tutta la struttura. Ma c'è chi scrolla le spalle e dice ma che ne so, chi dice delle parole di circostanza, sicuramente faremo bene. Deborah Serracchiani dice grazie, mi informo. Roberto Speranza dice hanno ragione, devono pagare, grazie. Enrico Letta dice adesso verrà gestita la cosa, grazie. Francesco Boccia dice compagni di Torpignattara, lunedì vi contatteremo e ci spiegherete che cosa è successo. Compagni. E poi abbiamo anche Bonaccini che dice bisogna sempre onorare i debiti, bisogna pagare le spese del condominio per essere più credibili, dopo a guidare il paese mi occuperò, glielo prometto. E Elie Schlein dice buongiorno. Quindi Elie Schlein è che il capo del partito risponde buongiorno. Eh, è buongiorno sto cavolo. Questo vuol dire buongiorno. Sapete che il PD, anche il PD, il partito in generale è senza soldi perché con la diminuzione dei tesseramenti non hanno più soldi per pagare i circoli. Quindi questo problema lo conoscono benissimo. Lo conoscono benissimo e a livello nazionale non sanno più come tirare avanti tutte queste strutture aperte, come pagare Tizio, Caio e Sempronio. Quindi i 10.000 euro di Torpignattara sono molti di più in Italia. Vedremo. Se ci sarà una soluzione ve lo racconterò. Intanto vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. C'è anche poi Teleitalia Seconda Rete, poi c'è anche In Cucina con Carla, Carla con la K e Tutorial Uncinetto con Carla, Carla con la K se non lo trovate. Sono i canali di mia moglie. Piccolini questi canali. Grazie a tutti e arrivederci a presto.